Nulla cambia Fontanelle che continua ad essere sotto il controllo degli spacciatori e vittima di occupazioni abusive da parte di chi utilizza le case popolari ATER per fini illeciti. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari torna a denunciare l'emergenza sicurezza nel quartiere Fontanelle di Pescara. Intanto siamo qui a Fontanelle dove la battaglia è continua, purtroppo la situazione è peggiorata. Peggiorata significa ogni giorno occupazioni abusive che sono aumentate anche da parte dei delinquenti, dei criminali che sottraggono le case dei cittadini onesti. Non solo, qui ci sono almeno una ventina di case vuote, anche quelle per disabili, non ancora assegnate, quindi sono case che poi, come dico io, incentivi all'occupazione abusiva perché se una casa la lasci vuota e non l'assegni incentivi questo. C'è addirittura, ci raccontano di flussi di persone che vanno in determinate abitazioni dove si spaccia droga a tutti i giorni del nordio che stanno in fila come al supermercato. Vedi 20 persone, 30 persone in fila in attesa di entrare in quel portone dove si spaccia droga come se fosse al supermercato, una cosa veramente vergognosa. Non solo abbiamo registrato, abbiamo foto emblematiche, violente, di gatti che sono stati bruciati, dati alle fiamme, un gatto è stato addirittura ammazzato con dei petardi. Sono atti indiminatori, situazioni che i cittadini si trovano magari fuori dalla porta ogni giorno, hanno paura e io ritengo che ci sia anche un altro problema gravissimo di baby gang che esistono in questi luoghi. Poi si spostano nei fini settimana nel centro della città a fare liti, aggressioni e violenze. E quindi anche un appello ai cittadini della Pescara Bene, nel centro città, non voltatevi dall'altra parte perché non è solo un problema di periferia, questo è un problema che dalle periferie la bomba sociale si va a spostare in centro. Ci sono ancora tanti cittadini con un terrone di vita altissimo perché spacciano droga all'interno delle case popolari, quindi si faccia subito, si faccia presto, unità fissa di polizia H24, togliere le case a tutti gli occupanti abusivi, fare un vero censimento e applicare la legge regionale 96-96. I cittadini non ce la fanno più a vivere così, hanno riferito anche di atti indiminatori, violenza e quant'altro. Questa mattina abbiamo anche fotografato il Grand Hotel della Droga adiacente alla strada Pendolo, si stanno facendo tanto per sbraitando che faranno inaugurazione la strada Pendolo, abbiamo visto che a fianco c'è un manufatto che non è stato abbattuto, non è stato fatto niente, dove all'interno c'è una sporcizia diffusa, flussi di persone che ogni giorno entrano all'interno per drogarsi come veramente un Grand Hotel, una stanza del buco. Tutto questo nella nostra città, la città di Pescara merita di più, si faccia presto e si faccia immediatamente e si vada a ripristinare la legalità e la sicurezza in questi posti.